Eccoti, eccoti. Allora, appena partiamo, noi non partiamo per primi. Lasciamo andare avanti lui e lo checkiniamo. Così lo facciamo esplodere e se ne sta proprio in fondo. Va bene, va bene. Ma prima di partire con il video andiamo a salutare 6 persone che hanno usato il mio codice creatore Tecnoid96 nello shop. Saluto Erbacello, GX Quirico, Leonard Gradinaru, Alien Carmax, Dark Gamersa, Matteo Viscusi. E un bacio per gli animali e benvenuti in questo video, come sempre sono Tecnoid e siamo tornati in un nuovissimo video su Fortnite insieme a Tuberanza ed Ezektor. Dovete sapere, ragazzi. Esatto, cioè, scusate, scusate, avete ragione, salutate. Oh, ma l'altro non saluta, l'altro. Ho detto ciao, raga. No, non hai detto niente, io non t'ho sentito. E anche se tu l'avessi detto, io ti muterò, così avrò ragione io che non l'hai detto. Va bene. Voi dovete sapere una cosa. Prima abbiamo registrato un video per Ezektor dove Tube, raga, è arrivato al limite perché moriva su Fortnite e si è davvero arrabbiato. Allora, facciamo così, guarda. Dimmi quali sono i tuoi problemi con Fortnite, vai, dimmi. I miei problemi su Fortnite sono Tecnoid. Ma perché? Tecnoid ti aiuta sempre quando vai a terra. Odio costruire. Potevi riassumere tutto dicendo sono scarso, però vabbè. Oggi, ragazzi, come vedete, siamo a tema natalizio e andremo a fare snowboard su Fortnite. Questa gara sarà una gara malata, però vi ricordo che ci saranno degli item sparsi per la mappa che serviranno per mettere in difficoltà gli avversari, ragazzi. Vai, ragazzi, siete tutti carichi, pronti? Il mio personaggio c'è la testa snodata. Sei braggato. Non ti preoccupare che adesso, guarda che te l'ho giusto io. Parti qui, tofra. Tofra, parti in quinta? Parti, parti. Guarda, guarda. Tube, guarda, Tube che lo voglio fare esplodere. No, non ti ho preso, Tube. Non è Tube, sono io. No, no, era Tube, era Tube. Guarda. Vai, Tube. Vai, Tube. Pignati questa, Tube. No, mi sono autofatto danno, ragazzi. Che sfigato che sono. No, oh, piglialo, piglialo, Tube. Tube, stai lì dietro. È bellissimo quella roba qua, eh. Vai, Tube, stai lì dietro. Ci sto, ci sto, fra. Eh, sprinta, sprinta. Aia. Oh, prendilo, vai, Tube, bravo. Levati però, Tube. Levati. Leva, no. Mi ha fatto morire l'infame. Dai, regà, ma mi ha spinto giù. Ma mi vieni addosso, scusami. Sì, frate, dai, ma te guarda che mi hai spinto giù, dai, dai. Frate, lui non ha sprintato, cioè io l'ho portato dall'altra parte, io spingendolo. Lui manco aveva sprintato. Che lezzo che sei, oh. Mannaggia, ma tanto le devi fare un passo falso. Dove andavo? Lo mordo. Vai. Vedi? Lo ho detto io. Neanche il tempo di finirlo a dire. Adesso arrivo io, ragazzi. Questo albero di Natale divento il Grinch. Guarda. Crepaci, crepaci. Frate, frate, crepaci. Ok, ok, vuol dire che... Mamma mia, anche io mi sono incastrato all'albero. No, regà, no, regà. No, no. Mi l'ho incastrato lì, anch'io. Oh, ma te l'ho attaccato? Con quel tardino, eh. Eh, vedi che ci ho provato. No, mi sono perso. No, anch'io, t'ho seguito come uno scemo. Bella, ciao. E provalo adesso. No, 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 no. Ragazzi, non so quanto siete, ma... Oh, mi sono incastrato. Mi è scelto solo, non mi sale più. Ehi qua, brutto schifoso. T'ha giusto io. T'ha giusto io. No, ragazzi, dai, però. Cioè, io mi sono incastrato. No, stavo scendendo da picconarlo schifoso. Ok, ok, mi sono scastrato. Ho superato Eze. Vai. Primo giro fatto. Oh, c'è Eze dietro il regà che mi sta sparando. La fortuna che t'ho sprintato io. Oh, Eze, hai rotto lo... Cioè, non ti dico che cosa hai rotto perché dovevi essere family friendly. No. Levati. Dai, però. Ma mi usa come ringhiere sto schifoso. No, sono andato pure la mappa. Quanto godo. Ciao. Oh, ma che è sto qua che sta fermo? E tu... No, tu... E' schifoso. E' morto. Ma tu ti sei fermato lì a fare una dogana schifosa, eh. Sì, vabbè, lì era una tassa di passaggio che dovevate pagare. Cioè, lo schifoso si è fermato là ad aspettare quelli che passavano per ucciderli. In realtà ho sparato. Però ho fatto bene. In realtà ho sparato solo a te. A Eze non l'ho sparato. Io, regà, non riesco più a passare da sta rampa, eh. Sono fermo io, eh. Oh. Guarda che c'è su un po' lo tube e io non lo aspetto, eh. Oh, tube, vi giuro che non lo prendete più, eh. Ecco, ha vinto. Eh. No. Che schifo. Eh, sì, ha vinto. Ho vinto io? Hai vinto... Ha vinto Ezekto! Ah, no, aspetta. No, oh, aspetta. Io sono sicuro che ero davanti a lui perché l'ho superato. Anzi, vi stavo aspettando, ho visto. Ezeko andava fuori mappa. E a te l'ho preso con l'arco. Poi tu sei morto. Nel mentre che tu respawnavi, lui è passato. Eh, sì. Mi stai solo trollando. Mi stai. Eh? Quinto cosa ha vinto, Tecnoid? Eh, hai vinto la prima. Ce ne sono tre da fare. Ma io parto in quinta, eh. Te lo dico. Ciao. Vai, 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 vai. Bravo, bravo. Bravo, tu parti così e io ti supero adesso. Ciao, bello. Ciao, bello, cipolla. Esploda. No! Non esploso, regà. Cipolla, amico. Cipolla. To cipolla. To. Ma come ti permette, azzotto? Tube, non sparare a me, Tube. Spara, spara quello in cima. Non faccio sapere chi sei. Eh, io sono quello. Tu sai chi sono. Non farli infame. Dai, non sparare a me. Spara quello in cima. Spara quello in cima. Fidati. Eh, non c'ho più tardi. To. Ma no. Ma no. No, ma non vuole sparare. Oh, ci sono sparati. Non vale, raga. Siete proprio di ladri, eh. Bella. Così mi piace, Tube. Uff. No, vabbè, non vale, raga. Certo che vale, scusa. Eh. C'è proprio dei giocatori scorretti. Ma scusa, su Super Mario il razzo va dritto a quella che sta in cima, eh. Eh, smettila che lavate di fianco, vi ho visti, eh. Non è vero, non c'era niente. Guarda, 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 guarda. No. No. Oh, mamma mia, ma sto gioco se muori ti fa ripartire da un sacco in fondo, eh. Eh, te l'ho detto. C'è che poi c'è un mega indietro. Ma scommettiamo che sono ancora primo? Bendy, eh, Z. Tube, facciamo così. Facciamo un'alleanza contro di lui perché non è possibile. Oh, raga, io sono arrivato al traguardo. Primo giro fatto. Io c'ho un giro su due. Anche io l'ho appena passato. Sì, fra gli da un'ora l'ho passato. No. No. Ho perso un snowboard. Quanto godo. Chi è passato adesso? Hai visto passare me? Ho visto un tipo passare. Io ero sopra la montagna buggato. Tecnoid ha pagato le montagne per tenermi fermo. Guarda questo, raga. Come ha fatto a passare? Cioè... Però no, vedi che... Vedi che... Vedi che servono per... Che è? Oh, chi è? Eh, chi è? Chi è, frate? Tu ti sei preso una scorciatoia, eh. Tu ti sei preso una scorciatoia. Ed è per quello che sei riuscito a passare. Aspettami. No! Ma ha lanciato gli esplosivi dietro. Stolezzo. Che impame. Ma ha lasciato... Gli esplosivi. To! Ho paghiato! Ho aperto lo snowboard! Dovresti vedere che c'è chi nada che ti ho dato, Eze. Perché mi state attaccando tutti a me? Perché ti sei comportato male con me. Guarda te. Guarda te che robe che li sto lasciando ad Eze. Guarda qua. Come ti vedi? Guarda qua. Te ti giuro che ti incastri. Poi qua ti lascio questo. Così appena passi esplodi. Si raggirò si hanno rotto i c***i. Eh beh zio ma perché tu sei scarso. Ragazzi ho vinto. Ho vinto. Ho vinto ragazzi. Bravo! Uno io e uno Eze. Tube. Sempre zero. Tube giuro. Ti devi all'era è con me non con lui. Lui ti ha usato per arrivare al traguardo. Hai capito? No ragazzi. No 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 non è vero. Non c'è nessun lavaggio del cervello. Non è vero non c'è nessun lavaggio. Ragazzi mi sto triggerando. Se non vinco nemmeno su... Ragazzi io vi do un consiglio. Vi consiglio di non essere mai primi. Perché il primo viene sempre targettato all'inizio con... No come non l'ascoltare? Ti sta manipolando. No 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 non ti sto manipolando. Fidati non passa primo. E vedrai che nessuno ti spara. Oh 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 bella. Ciao frate. Bravo Tube. No! No! Mamma mia sono esploso. Lo vedo lo vedo. Cioè se lui ha perso lo snow. Ma è incredibile corre più lui a piedi che io con lo snowboard. No ragazzi no no mi son preso la trappola ragazzi. C'è un testa testa con Tube incredibile. Aiuto. Se gli butti la ballerina lui balla e scende dallo snow. Hai capito? Ok. Buttagliela. C'è una ballerina. No! No! Ho preso la barriera loro! Vai Cotto Cotto Cotto. Primo giro completato. Guardate il lezzo. Guardate il lezzo. No regà non mi rompete lo cavolo. Questo giro lo vingi io. Oh ma non ti incastri mai? No 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 no. Ti sento. Stavo accanto a te poi mi sono incastrato bro. Che sfortuna oh. No! Morto giù? Eh ma mi sa che ci voglio anch'io mo giù. Guardalo guardalo che se fa il secondo giro ha vinto eh. Oh aspettaci dai dai zio dai aspettaci. Guardalo. Ma tu me hai fatto perdere? Eh tec. Ma che hai fatto perdere zio? Non è vero niente. Tec ma è me. Toh! Mamma mia l'ho fatto ballare. L'ho fatto ballare bro. L'ho fatto perdere. Fratello l'ho fatto ballare. L'ho fatto ballare. No oh. Regà non mi spawna lo snowboard. E dai tec ma hai fatto perdere di nuovo. No aspettami. Che se poi mi batti. Spera non lo startà. Mi sto pisciando sotto fra. Vai 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 vai. Eccoti eccoti. Allora. Dato che adesso lui sta là. Appena partiamo. Noi non partiamo per primi. Lasciamo andare avanti lui e lo cecchiniamo. Ok? Va bene. Ok così lo facciamo esplodere e se ne sta proprio in fondo. Va bene va bene. Faccio vedere io sto giro il ballo di tuberanza. Mo non mi freghi più. Mo non mi fermo neanche se mi dici. Vai 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 tranquillo tu. Vai dritto. Dritto per dritto. Vai. Vi siete alleati? Che cosa vi siete letti mentre ero in bagno? Oh mamma mia. Vai tube vai. Superami tube. Vi siete letti. Basta. Schizofrenici. Che cavolo è? No. Tube superami. Tube superalo. Che faccia di m***a che siete. Tube superalo. Oh ecco. Non glielo faccio. Che vuoi? Tuo nonno è quella pisunta. Ah t'ha preso. Io ho tirato una stacchia frate. Voi non avete ancora idea di contro chi state facendo. E' super avanti? E' avanti sì. Io sono stato mega indietro per si spawn qua. Guardalo guardalo. Guarda che c'è morto. C'è morto. E' morto. Sì 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 è morto è morto. E' morto è morto. E' morto è morto è morto. Ho finito adesso il primo giro. Ok allora ti ammazzo il bot è dato che ti ho davanti. Mamma mia. Mi sei rotto. Lo snowboard. Toh. Toh. Oddio. Lenzo crepaci. Che ti ridi? Aia. Toh. Che è che mi sta? Toh. Oh snowboard rotto? Sì. Ma ne ho preso già un altro. No. No no regà. Cioè usa i cheat. Usa i cheat. Aspettaci a sto punto. Io mi sto concentrando. Voi non avete idea di quando mi sto triggerando. Brava mi sono fermato io eh. Sì sì sì. Tu tu. Vaffan bagno va. Vaffan bagno regà. Dai regà dai. Devo vincer così però. Mamma che uomo di me. Che schifo che fai. Che schifo che fai. E niente ragazzi. Che vi devo dire? Rezector barando. Giocando un pochino sporco. È riuscito a vincere questo minigioco. Ma lei che ha giocato sporco. No frate. Gioca sporco quello eh. Lui è andato dritto. Lo so io che sei fermato davvero. Tu hai ricordato le cose. Io vorrei ricordare che non ho vinto nemmeno. Neanche una. Sì ma cioè io non ricordo ste cose per non farti fa butta figura. Però se tu ci tieni. No no le ricordo io. Va bene. Sento ciao ragazzi. Spoliciate un sacco. Arriviamo a 5000 like. Se volete altri video insieme a loro. Vi ricordo che qui sotto in descrizione. Troverete link ai loro canali. Detto ciao ragazzi. Grazie mille per aver visto questo video. Ci vediamo. A prossimo video. Bella regà. Ciao.